Susone. Susone è conosciuto anche come Amandus, pseudonimo assunto nei suoi scritti. Fu mistico tedesco, nacque a Costanza verso il 1295 e morì a Ulm il 25 gennaio del 1366. Venne santificato nel 1831 da Gregorio XVI, che istituì la sua festa il 2 marzo nell'ordine domenicano. Susone apparteneva a una nobile famiglia di Berg. Sua madre, una santa da cui Enrico prese il nome, apparteneva a una famiglia di Sus in Baviera. A 13 anni Susone entrò nel convento domenicano di Costanza e qui intraprese gli studi preparatori sia filosofici sia teologici. Dal 1324 al 1327 Susone frequentò un corso supplementare di teologia nella sede di Cologne, Colonia, e qui insegnava Meister Eckhart. Probabilmente, oltre a Meister Eckhart, insegnava anche Taulero. A Costanza Susone venne nominato precettore, anche se sembra che sia stato nominato, sia stato poi destituito tra il 1329 e il 1334, quando principiò il proprio percorso apostolico. Verso il 1343 Susone venne nominato priore di un convento, forse in Svizzera, e cinque anni dopo fu inviato da Costanza a Ulrn, ove rimase fino alla morte, che come già ricordato avvenne nel 1366. Possiamo dire che la carriera mistica di Susone principiò a 18 anni, allorché, rinunziando ai costumi dissoluti dei precedenti cinque anni, si fece servo dell'eterna saggezza, che egli identificava con l'essenza divina e concretamente con l'eterna saggezza fatta uomo. Da quel momento un eterno e ardente amore per la saggezza eterna dominò i pensieri e le azioni di Susone. Questi ebbe diverse visioni, si impose severe mortificazioni, che poi in età matura mitigò, e sopportò con grande pazienza i tormenti fisici, le feroci persecuzioni e le aspre calunnie. Si distinse fra gli amici di Dio per le sue opere di restaurazione dell'osservanza nei chiostri. La sua incidenza fu assai forte nei conventi femminili, soprattutto nel convento domenicano di Catarinental, famoso centro del misticismo nel XIII e nel XIV secolo. Possiamo dire che l'apostolato di Susone non fu solo dalla parte delle masse, ma con tutte le classi sociali, che erano attratte dalla sua personalità accattivante, tanto da diventarne spiritualmente un punto di riferimento. Si sbaglia talvolta nel pensare che Susone abbia formato all'interno degli amici di Dio una confraternita dell'eterna saggezza. La cosiddetta regola dell'eterna saggezza non è se non una libera traduzione del suo Orologium Sapientiae, testo nel quale egli compendia la propria posizione. E però il primo testo di Susone fu il libello della verità, comparso negli anni di seminario a Colonia. La teoria di Susone venne giudicata negativamente in taluni ambienti, soprattutto per via dello stretto rapporto che Susone aveva intrattenuto con Meister Eckhart, e però il testo venne poi riconosciuto come ortodosso. In questo, come in altri suoi scritti, Susone rivela l'influenza di Meister Eckhart, ma al tempo stesso ne evita quelli che erano stati considerati gli errori. L'obiettivo che si propone il libro di Susone, Orologium Sapientiae, ma poi anche il libello della verità già ricordato, è un obiettivo molto chiaro, argomentare contro gli insegnamenti panteistici dei Beghini e quelli libertini dei fratelli dello spirito libero. Possiamo dire che se nel libello della verità Susone scrive in toni contemplativi e si rivolge all'intelletto, nel successivo scritto Il libello dell'eterna saggezza, pubblicato al principio del 1328, è un libro più pragmatico e parla a uomini semplici, con qualche imperfezione da eliminare. Nel 1334 Susone traduce l'opera in latino e vi aggiunge nuovi contenuti, trasformandola radicalmente a tal punto da mutarne il titolo in Orologium Sapientiae. Il testo così rinnovato guadagnò una nuova completezza spirituale, linguistica, allegorica e ritmica, e ciò fece sì che il testo diventasse in qualche modo un testo fondamentale nei chiostri alla fine del Medioevo, non solo in Germania ma anche nei Paesi Bassi, in Italia, in Francia e in Inghilterra. A questa stessa fase risale il libello amoroso, la cui autenticità tuttavia è controversa. Dopo essersi ritirato a Ulm, Susone scrisse sulla propria vita interiore, vita o lebenseuses, revisionò i due libelli che insieme con il libello epistolare composto di undici lettere e un prologo compongono l'exemplar seuses. Oltre agli scritti menzionati ci sono giunti anche cinque sermoni e venticinque sue lettere accorpate nel grande epistolario che ancora oggi rappresenta il cuore della sua opera. Susone utilizzava il dialetto alemanno con destrezze ed elasticità, contribuendo alla nascita della prosa tedesca moderna, soprattutto nell'impiego di nuove sfumature semantiche e di significato negli argomenti spirituali. Il suo bagaglio culturale è quello di uno scolastico del suo tempo, anche se la sua dottrina è assolutamente originale, anche se influenzata, come già ricordato, da Meister Heckart.